Dal 24 luglio al 30 settembre, il Comune di Siena e l'Opera della Metropolitana di Siena, in collaborazione con Filmaster Event e Opera Gruppo Civita, insieme nel gruppo Italian Entertainment Network, lanciano una nuova iniziativa culturale che valorizza il complesso del Duomo di Siena, la Divina Bellezza Discovering Siena. Un video 3D che sarà trasmesso in Piazza Jacopo della Quercia durante le sere d'estate e farà rivivere la storia di Siena e del Duomo, in un viaggio nel tempo e nelle emozioni, nel mito e nella bellezza. La Divina Bellezza è un'esperienza visiva in cinque atti che permetterà di ripercorrere la storia di un luogo unico al mondo, ma soprattutto di conoscere la storia del Duomo e del Duomo Nuovo. Un'occasione per raccontare l'intera città, i suoi luoghi, la sua gente e la sua storia. Un evento che punta alla spettacolarizzazione dell'arte per trasmettere valori, messaggi e rievocazioni storiche e che rappresenta una tendenza a livello mondiale. Quella di far vivere i monumenti, raccontarne la storia e l'identità. Diciamo che non sarà un video, sarà un'esperienza visiva e sarà, secondo me, una emozione. Racconteremo o cercheremo di raccontare l'identità di una città passando attraverso un suo monumento simbolo che è il Duomo. L'idea qual è? È quella di raccontare uno dei più grandi sogni della nostra comunità, che è quello di questa immensa chiesa, questa immensa cantedrale, che poi i senesi non riescono ad edificare per una serie di cause, fra cui la pestilenza del 1348. Ci trovate la storia della città, ci trovate l'anima dei senesi, di coloro che ci hanno preceduto e che hanno voluto immaginare una città più grande di quello che non è attualmente Siena. Questo sogno, questa utopia del Duomo Nuovo, che doveva sostanzialmente sancire quella che era la potenza della città di Siena, il buon governo, che poi purtroppo si è interrotta per tanti problemi che hanno coinvolto la città. La nostra missione è cercare di divulgare al massimo le conoscenze e le bellezze italiane, in primi sul territorio, per chi riesce a venire sul territorio, ma anche fare un esempio di modelli di sviluppo della cultura e della dimostrazione di quanto è valida la cultura italiana nel mondo. Quindi cercheremo poi di esportare anche quello che stiamo facendo qua da altre parti, ma in primis cercheremo di portare i turisti a vedere la nostra bellissima città.